Arrivare alle persone prima che diventino clienti, questa è una delle finalità del marketing, oggi grazie ai dati, il grande petrolio di questa fase economico-finanziaria che stiamo vivendo, tutto è diventato più facile se si sa dove trovarli e se naturalmente si ha anche la capacità di interpretarli. L'audience prima di tutto è il titolo dello speech di Andrea Volontè, Head of Sales di Subito, grazie. Buongiorno a tutti, scusate ho la voce un po' strana perché sono un po' raffreddato, però sono molto contento di essere qui oggi, ringrazio Gerardo, oltre che per l'invito per l'energia, perché noi ci stiamo approcciando in modo molto più, diciamo così, focalizzato al real estate da qualche anno a questa parte e abbiamo trovato in Gerardo qualcuno che ci sta veramente esprimendo l'energia che c'è nel real estate, siamo molto contenti di essere qui. Tant'è vero che definendo, diciamo così, di cosa parlare, quale poteva essere il nostro contributo a questo appuntamento, fondamentalmente quello che mi è venuto in mente, visto che io faccio il venditore, è pensare a cosa ho da vendere, cosa ho da raccontare, fondamentalmente però la differenza rispetto a quello che si pensa è che noi vendiamo una piattaforma, in realtà noi vendiamo gente e questa è la differenza. Gente che nel punto di vista marketing di fatto si chiama, è la audience fondamentalmente, perché quando qualcuno cerca di fare un investimento di marketing ha un obiettivo in testa che può essere vendere case, prendere un appuntamento, prendere il nuovo caso del portafoglio, però devo pensare dov'è questa gente, no? E la gente è in tanti posti diversi. Quindi dal punto di vista pratico quello che voglio condividere con voi oggi è dire ok ma questa piattaforma rispetto a tante altre piattaforme che ci sono, che cos'è? Subito, forse lo sapete, subito è la piattaforma 1 a 1 per quanto riguarda la compravendita dell'usato in Italia. Noi cosa facciamo? Fondamentalmente diamo la possibilità alle persone di incontrarsi e di vendere cose. Cose, animali, case, auto, qualsiasi cosa. Siamo una piattaforma generalista che dal punto di vista pratico sembrerebbe qualcosa che potrebbe essere lontano o perlomeno non speciale, non specialistico per quanto riguarda la compravendita delle case. In realtà abbiamo una cosa abbastanza unica che adesso vediamo insieme. Dal punto di vista pratico cosa siamo noi? Siamo un posto gigante, un posto molto grande in termini numerici. Qui vedete alcuni numeri nostri, stiamo crescendo tantissimo forse perché anche dopo il covid c'è stata la possibilità o la necessità più spinta di comprare cose, di vendere cose per fare spazio, che questa è un'altra cosa importante che è successa perché rimasti chiusi in casa per parecchio tempo hai dovuto magari reinventarti uno spazio diverso, hai dovuto comprare delle cose, hai dovuto liberarti di altre. Quindi noi abbiamo, diciamo così, aiutato gli italiani nelle nuove necessità. Però per quanto riguarda la vendita della nostra audience abbiamo cominciato a dire ok ma cosa fanno i nostri clienti, i nostri utenti? Fondamentalmente la nostra piattaforma come tante altre per l'amor del cielo, però noi che siamo un generalista siamo una piattaforma ad alta frequenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'utente medio da noi viene più di una volta alla settimana, quindi questi milioni di utenti continuano a tornare perché hanno esigenze diverse. Oggi vogliono vendere la cuccia del cane, domani devono comprare il passeggino, dopo domani venderanno la macchina, cercano la casa, cercano il camper, quindi lo stesso utente trova molto spesso una soluzione, una piattaforma come la nostra. Questa cosa aiuta. Aiuta chi? Aiuta noi a cercare di indirizzare quelle che sono le necessità di un agente immobiliare. Noi in piattaforma oggi abbiamo circa 7400 agenzie che pubblicano gli oggetti che hanno da vendere e quindi per capire come aiutarle ancora di più al di là della vendita abbiamo chiesto loro quali sono le necessità che avete perché qui ci sono agenti immobiliari quindi credo che vi possiate ritrovare nei numeri che vi sto facendo vedere. Al di là dell'avere delle lead che stiamo capendo sempre di più che non è il problema il telefono che suona perché fondamentalmente di gente ce n'è che cerca quindi dal punto di vista della generazione delle lead è una necessità abbastanza ben indirizzata. Quello che invece è sempre più chiave è l'incarico alla vendita, cioè avere la possibilità di intercettare qualcuno prima degli altri essendoci una competizione altissima. Io stesso vengo interpellato almeno una volta al mese dello stesso agente immobiliare che mi chiede se nella mia via c'è qualcuno che vende casa, nella speranza che sia morto il mio vicino di casa probabilmente. Però questo è quello che accade. Quello che cerchiamo di fare noi è quindi dire ok proviamo a capire visto che i nostri utenti hanno un'altissima frequenza e sono molto ingaggiati se possiamo trovare delle soluzioni a questa domanda. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire attraverso i dati il comportamento degli utenti. Abbiamo cercato di capire cosa fanno gli utenti prima di fare qualcosa nella categoria immobili. Noi abbiamo N categorie, abbiamo 38 e quindi abbiamo cercato di capire attraverso i dati cosa fanno questi clienti, questi utenti. Scusate. E quindi è venuto fuori qualcosa di assolutamente in linea con quello che potevamo immaginarci. Perché fondamentalmente qui si vede che cosa? Che prima di andare nella categoria immobili hanno fatto un giro nella categoria lavoro, che prima di andare nella categoria immobili hanno venduto degli arredi, piuttosto che hanno venduto elettrodomestici, piuttosto che hanno comprato una casa, piuttosto che hanno cercato articoli per bambini. Vedete che alcune delle cose che ci sono qui sono legate alla necessità di cambiare casa. Cerco casa perché cambio lavoro, cerco casa perché mi nasce un figlio, cerco casa perché ho bisogno di più spazio e lo troviamo nel comportamento avuto nei mesi precedenti. Quindi diciamo così, per andare oltre a questa, diciamo così, a questa teoria che ci stavamo costruendo attraverso i dati, abbiamo fatto una survey. Quindi abbiamo preso un articolo, uno, e lo vedete sulle vostre sedie perché abbiamo fatto fare una lavatrice. Quindi abbiamo preso un articolo e abbiamo cercato di capire, investigare che quell'articolo lì se ci dava la soluzione, se ci dava una risposta. E la risposta è arrivata. Quindi noi abbiamo preso gli utenti privati che avevano una lavatrice online sulla nostra piattaforma. Parliamo di circa 10-11 mila. Abbiamo circa 10-11 mila lavatrici pubblicate sulla piattaforma ogni giorno. Quindi non è un numero piccolo. E essendo io un utente mi sono fatto la domanda, ma io la lavatrice perché la devo vendere? Tendenzialmente, mediamente, un elettrodomestico, un bianco si chiamano quegli elettrodomestici, si vendono quando si rompono. Non c'è la voglia di sostituirlo. A meno che non c'è una necessità diversa. E questa è la domanda che abbiamo fatto. Perché la stai vendendo? Qui la grande sorpresa è stata che il 35%, scusate, devono liberare i locali perché devono vendere casa. Ma questi signori non hanno ancora capito come venderla, non hanno ancora capito se darla a un agente immobiliare piuttosto che provare a venderla da sola. Piuttosto che c'è un altro 10% dei clienti, degli utenti, che vendono per ristrutturare, che è qualcosa che comunque è vicino al mondo del real estate, ci pensate. Quindi questa è una cosa che mi fa capire quanto nei dati c'è la possibilità di trovare risposte, ma soprattutto quanto è importante andare oltre il punto finale. Perché molto spesso noi andiamo sul punto finale. Ho bisogno di gente per vendere casa, piuttosto che ho bisogno di clienti che stanno vendendo la casa, quindi giustamente vado sul portale e chiamo il privato che ha la casa in vendita. Probabilmente sono il settimo che lo sta chiamando. Quello che invece bisognerebbe provare a fare è cercare di anticipare l'audience, quindi provare a capire quali sono quegli elementi, attraverso i dati ma anche attraverso l'esperienza personale, quali sono quei comportamenti che mi permettono di anticipare i miei concorrenti. Perché anticipare vuol dire essere più bravi degli altri e arrivare prima sul cliente. Questo è il concetto. E questo è la chiusura sostanzialmente, quindi bisogna cercare di capire qual è l'obiettivo finale per poi risalire il processo per arrivare poi a intercettare il cliente prima degli altri. Io ho concluso, ho fatto credo più in fretta di quanto avrei dovuto. Mattina mi state cogliendo tutti di sorpresa, però siete molto bravi, molto disciplinati. No, visto che eravamo in ritardo. Però io ho una domanda, quindi ne approfitto. Allora, abbiamo sentito... Vabbè, la storia della lavatrice è molto molto carina, molto divertente, quindi davvero dobbiamo essere capaci di avere delle intuizioni anche laddove sorprendentemente potremmo pensare di non trovarne. Però mi interessava anche un altro ambito della vostra attività. Diciamo che lei l'ha descritta subito come grande portale della compravendita dell'usato, ma che è un modello molto attuale, perché oggi noi siamo tutti interessati al mondo della sostenibilità, della circolarità, e quindi direi che sta diventando probabilmente un campo estremamente innovativo da questo punto di vista. Allora, diciamo che è diventato un trend negli ultimi anni, la circolare economy, la grid economy e così via. Noi nasciamo con quel DNA. Certo, non per risparmiare si compra l'usato perché, ma perché c'è un certo spirito anche dietro l'utente di questo mondo. Poi ci sono anche altre cose, perché fondamentalmente al di là della voglia di salvare il pianeta, che va benissimo, ci sono anche altre cose che ultimamente hanno portato la second hand ad essere qualcosa di molto attuale. Per esempio tutto il fantastico mondo del vintage. Certo. Il fantastico mondo del vintage è qualcosa che sta dando una spinta fortissima, perché certi oggetti ci sono solo se usati, certi oggetti nuovi non esistono, dal divano particolare, piuttosto che alla borsa, piuttosto che anche a certi articoli tecnologici. Quindi da quel punto di vista diciamo che noi stiamo cavalcando l'onda in modo particolarmente positivo. Noi vi auguriamo tutto il meglio possibile. Grazie ad Andrea Volontè, Head of Sales di subito. Grazie. Grazie.